Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia e in studio Nicola Giannattasio. In A11 ci sono code in uscita a Prato Est a causa di un incidente avvenuto sulla declassata per un tir che ha perso il controllo ribaltandosi, chiuso al traffico il tratto tra viale Leonardo da Vinci e Prato Est in direzione Pistoia. Per chi percorre l'A11 si consiglia di uscire a Prato Ovest. Segnaliamo che l'area di servizio di Peretola Nord in direzione Pisa è sprovvista di GPL per lavori. In A12 fino alle 22 di domani lavori tra la barriera di Rosignano e Pisa Centro in direzione Genova. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.